Il 31 luglio prossimo si chiuderà ufficialmente la campagna referendaria sulle leggi elettorali, ma la soglia delle 500.000 firme sembra sia stata raggiunta e superata proprio in queste ore. A Trieste, ieri sera presso la sede delle Acli, si è svolta la manifestazione conclusiva e il Comitato Provinciale per il referendum ha reso noto il risultato della raccolta. 6.121 sono i cittadini triestini che hanno firmato presso i banchetti predisposti in questi quattro mesi da Acli, Ande, Partito Radicale, Partito Comunista e dagli altri componenti del Comitato oppresso le segreterie dei Comuni. Un brillante risultato politico-amministrativo, così è esordito Taccisio Barbo, vicepresidente regionale delle Acli, che ha sottolineato la positività di questa esperienza, che ha soprattutto dimostrato l'interesse dei cittadini di Trieste verso questi referendum. Tra gli altri è intervenuto anche l'onorevole Villar Bordoni, il quale ha affermato che quello che doveva essere un argomento marginale come la riforma elettorale è divenuto invece l'aspetto politico più significativo del momento. Il Comitato ringrazia, si legge in una nota, i 6.121 cittadini che a Trieste con la loro firma hanno voluto sostenere concretamente la domanda di cambiamento presente in questi referendum.